Tra poco ci sarà il robot della Boston Dynamics, successivamente pupiavati però, rimanendo sempre in tema, vi chiamo sul palco Ubaldo Pantani. La storia dei centri di accoglienza è controversa. Da sempre. Anche nel secolo scorso non hanno avuto molta fortuna. Con i regime fasciste, per esempio, esisteva la DELASEM, Delegazione per l'Assistenza degli Emigranti Ebrei. E devo dire che all'inizio il partito fascista era anche contento di questi centri di accoglienza. Gli rimanevano simpatici. Perché il regime era contento di non doversi occupare di questi elementi razziali non conformi. Sono ebrei, pensateci voi. Aveva la sede a Genova e sedi sparse in tutta Italia. Poi a un certo punto succede qualcosa. Viene arrestato Mussolini. Arriva in suo soccorso Hitler, il suo alleato. Lo libera, però gli chiede il conto. E il conto prevede la consegna degli ebrei. E quindi è perfetto. Il centro di accoglienza, che già ce li aveva, diventa una gabbia. Diventa un ricettacolo. Perfetto. Già sono tutti lì, basta consegnarglieli. Ma ci sono uomini di buona volontà che si ribellano. La Delezem viene condannata, messa al bando e quindi costretta ad operare in clandestinità. Molte persone si operano e attuano un piano segreto. Uno di questi è il Cardinale di Firenze. Qual è l'unico modo per salvare gli ebrei? Farli rinascere. Rinascere normali, ariani, italiani. Prendendo dei documenti loro, mettendogli un cognome italianizzato, così che se vengono fermati sono quei documenti un salvacondotto. C'è una tipografia eccezionale ad Assisi che fa questi lavori, la tipografia Brizi. E quindi il Cardinale di Firenze si rivolge a un suo amico, Gino Bartali, campione a livello planetario. Il ciclismo è importante quasi quanto il calcio. E gli chiede se può portare questi documenti di questi ebrei ad Assisi dove questi tipografi abilissimi cambieranno il nome degli ebrei, daranno nuovamente questi documenti a Bartali che li riporterà a Firenze. Del resto, se succedesse ora, sarebbe come se in Portogallo ci fosse un dittatore e venisse chiesto a Cristiano Ronaldo ora che non ci sono le partite di calcio, Cristiano, tu fai finta di fare footing, ti metti documenti di portoghesi che hanno la A nel nome e il dittatore portoghese non vuole la A nel nome, bisogna cambiarlela. Tu porti questi documenti, se ti fermano lo faranno per chiederti un autografo. Questo era quello che ha fatto Bartali. Però c'è un episodio che è l'emblema di ciò che ha rappresentato Gino Bartali per la rete dell'Azem e per il salvataggio degli ebrei. Nonostante la catena di salvataggio fosse ben organizzata il pericolo era sempre dietro l'angolo ed ebbe modo di capirlo Trento, il figlio del tipografo che un giorno riuscì a toccare con mano la sostanza della paura. Mentre stava chiudendo la bottega che come tanti negozi ad Assisi vendeva anche souvenir e immagini sacre vide entrare due tedeschi. Con la coda dell'occhio si rese conto di aver commesso un errore fatale. La tenda che copriva la porta della retro bottega era rimasta aperta con i documenti stesi sul banco in bella mostra accanto alla stampante. Ci hanno scoperti pensò. È finita ci uccideranno. Si fece comunque coraggio e li affrontò al bancone. prego uno dei due tedeschi iniziò a mettere a fuoco lo sguardo proprio dietro le sue spalle. Avete immagine di Santa Chiara vorremmo regalare di nostra moglie. Sì certo gli mostruò due statue in legno le incartò e le consegnò al volo un regalo per gli amici tedeschi. Grazie i due uscirono soddisfatti. Trento rimase immobile stordito dalla paura. Mesi di attenzione che per una sbadattaggine potevano essere puniti con la morte. Basta. Quell'incarico era troppo per lui. Decise che non avrebbe fatto più parte di quella macchina e doveva comunicarlo a padre Rufino. Fece sparire tutti i documenti che aveva portata di mano e uscì di corsa verso il convento. Bavero su mano in tasca giunto in cortile aspettò che padre Rufino lo ricevesse. Il tempo non passava. si sedette disperato per darsi un contegno si tolse le mani dal volto e proprio in quel momento notò dall'altra parte del cortile padre Rufino parlare con no non poteva essere lui Gino Bartali il grande campione in un attimo intuì che anche Gino Bartali era parte del piano mezzo di congiunzione quell'incontro fortuito gli fece capire che quello che stava facendo era la cosa giusta da fare sarebbe stato un onore preparare le carte per Bartali sarebbe stato come correre con lui e da quel giorno ebbe anche un po' meno paura Ubaldo Ubaldo Pantani grazie 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 Ubaldo la storia grazie a Cosmano che mi ha permesso di leggere un estratto del mio spettacolo teatrale che è diventato anche un podcast che racconta poi in maniera più articolata la vicenda di Gino Bartali e in particolare abbiamo scelto insieme questa parte che riguarda i centri di accoglienza ed è incredibile io sono un appassionato di storia come sarà banale dirlo si ripete il destino della Delezem che da centro di accoglienza diventa gabbia ricorda un po' la controversia che abbiamo appena ascoltato appena ascoltato mi ha molto colpito assolutamente tu stai portando in giro questo spettacolo sì lo sto portando in giro ed è intramontabile intramontabile era uno dei soprannomi di Bartali perché non si dava mai per vinto sportivamente e poi è stato definito ombre verticale eroe silenzioso perché di tutto questo non ha mai fatto parola con nessuno addirittura i figli aveva confidato qualcosa con la promessa che non venisse fuori nulla mai fin quanto lui non sarebbe stato in vita e quindi in maniera del tutto disinteressata e questo spettacolo è intramontabile come Bartali poi in realtà in uno spettacolo io rivelo quante cose a parte il cognome che mi lega al ciclismo mi legano a Bartali e alla sua storia ed è bellissimo perché è intramontabile perché me lo continuano a chiedere da anni ed è sono felicissimo per me è più che uno spettacolo è una missione mi sento corriere di questa storia come lui lo è stata per la rete dell'asem molto bello molto bello questo spettacolo invito ad andare a guardarlo e da qui lo spunto noi abbiamo intitolato quest'anno le varie sale ogni sala ha il nome di un innovatore questo stage è Falcone Borsellino verso il trentennale il prossimo anno dedichiamo una sala a Bartali sarebbe molto piacere quest'anno tra le altre cose il Tour de France per rendere omaggio a lui parte proprio dall'Italia e da Firenze quindi disse una frase memorabile lui pochi mesi prima di morire alla nipote di me si parlerà molto più da morto che da vivo e ha avuto ragione anche su questo grazie mille grazie a voi grazie a voi grazie grazie Cosmano grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi